Ciao ragazzi da Marsala, benvenuti a questo nuovo e piccolissimo video soltanto per rispondere alla domanda del pass battaglia ovvero che cosa significa fare un po' avanti e indietro tra l'exp del livellamento storia e il pass battaglia allora innanzitutto dove sta il pass battaglia? Sta qui, il pass battaglia è questo c'è una parte gratuita per tutti, la sbloccate con la storia, è una parte potenziata se volete la prendete con il money evitare le compense sotto, ma per quanto riguarda l'acquisizione dei punti per far salire il pass battaglia quello c'è per tutti allora, ci sono determinati punti della storia in cui il gioco, come vedete qui sopra adesso per me nel livello 51 ti dice di raggiungere un certo livello, ok? quando ci sono queste situazioni vi troverete che magari non sapete come salire per rendere meno dolorosa questa situazione voi potete andare e fare i vari incarichi che ci sono qui li farete anche automaticamente mentre giocate, ok? ma farete salire questa barra, ogni livello c'è 180 punti, lo vedete anche, mi sembra ogni volta posso spostarlo ma ogni livello c'è 180 punti da fare e quando completerete questi eventi qui avrete il tasto riscatta quando lo riscattate i punti vanno a riempire questa barra potete farlo finché non la riempite, non la riempite totalmente, ok? e lasciate tutto in attesa fino a che appunto il gioco vi dirà raggiungi il livello X, nel mio caso 51 a quel punto consegnate tutto, ok? e fate le attività per far salire il pass battaglia, ok? quando di nuovo arrivate nel mio caso, quando arriverò al livello 51 fermerò non tanto l'ex del pass battaglia ma il riscatta che c'è in questi spazi qui quando li completi, ok? e ci può essere in diverse situazioni, non c'è soltanto qui altre altre attività fanno salire il pass battaglia oltre a quelle che vedete lì in quel momento riscatto tutto quando di nuovo raggiungo il livello richiesto mi fermo e torno alla storia e il livello attraverso la storia, ok? tutto lì, quindi di nuovo riassumo e chiudo e questo sarà tipo uno dei miei video più brevi ma vi avevo promesso avrei fatto video così brevi per dirvi anche piccole cose quando trovate un punto della storia che vi dice raggiungi il livello X per proseguire livellate il pass battaglia consegnate e riscattate i punti per poter fare i livelli considerate che quando voi fate un livello qui intero di questa barra il vostro livello di esperienza si riempirà tutto se non di più soprattutto se state a livelli alti ve ne dà tantissima, ok? quindi aspettate non lo usate all'inizio non lo usate intorno al 15-20 comincia a essere worth dopo il 30 worth conveniente dopo il 30, ok? quindi detto questo vi saluto è stato un video brevissimo e velocissimo breve ma intenso ne faremo anche altri ciao